La musica nasce, la loro musica nasce proprio per guarire il corpo e l'anima dal morso della taranta Arrivano dal Contiki Stage per tutti voi a spandere il loro ritmo come se fosse un vento Un vento benefico, un vento che fa bene, un ritmo che fa bene al corpo e all'anima Canzoniere, grecanico, salentino, a Java Beach Party, buon divertimento! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!